Un rapper molto amato è stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto riportato da TMZ, Playboy Carty sarebbe stato catturato dalle forze dell'ordine in seguito ad un'aggressione. Sembra che il 20 dicembre 2022 l'artista americano abbia provato a strangolare la sua ragazza. Quest'ultimo ha affermato di star con Carty ormai da un paio di anni e che nel momento in cui è stata aggredita era incinta, da due settimane circa. La lite sarebbe scaturita proprio per via del bambino. In modo particolare la ragazza avrebbe provato a chiedere al rapper di fare un test per la paternità. Da qui i due avrebbero iniziato a discutere, sfociando poco dopo in un'aggressione fisica. Attualmente Carty è stato rilasciato e sicuramente la polizia dovrà confermare la veridicità dell'accaduto. Che ne pensi della vicenda? Faccelo sapere nei commenti e segui esse per altri contenuti.